Benvenuti, l'incontro si sarebbe dovuto tenere in presenza ma i casi della vita portano a volte a fare dei cambiamenti lungo il tragitto e quindi per causa di forza maggiore dobbiamo fare in questo modo, però credo che non sia un grosso problema, deve passare un messaggio e sicuramente questo passerà. Allora, andiamo a presentare il dottor Roberto Defez. Sarò molto breve, ho cercato di documentarmi un po' online, se commetto degli errori mi bacchetti, sono pronto. Allora, consegue la laurea in scienze biologiche presso l'Università di Napoli? La laurea in scienze biologiche presso l'Università di Napoli, il 20 dicembre 1980, il sottoscritto non aveva ancora compiuto un anno. Sottolineo questo fatto, non per evidenziare la differenza tra il sottoscritto e il nostro ospite, ma per rispetto della differenza di competenze. Dal 1996, infatti, Defez dirige il laboratorio di biotecnologie microbiche prima all'Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli ed ora al nuovo Istituto di Bioscienze e Biorisorse. Ha pubblicato oltre 30 lavori su riviste peer review, 4 brevetti, 2 marchi d'autore. Sono andato per curiosità a vedere il curriculum, lo trovate online, 40 pagine di curriculum. Non voglio però, attenzione, che si caschi in quella fallacia che gli esperti chiamano appello all'autorità. Credo infatti che il dottor Defez, mi correga se sbaglio, non parli a titolo personale, ma corrobori una tesi o più tesi fornendo dati e studi che una comunità scientifica reputa attendibili. E concludo, il dottor Defez si interessa al dibattito sulla validità degli OGM, gli organismi geneticamente modificati in agricoltura, con interventi incentrati sulla valutazione scientifica dei dati tecnici disponibili sull'uso degli OGM. La ringrazio di essere qui con noi e le lascio la parola. Grazie. Allora, grazie, diciamo a completamento di quello che lei ha raccontato. Vorrei chiarire un passaggio che sfugge e che non viene mai raccontato nelle vicende di questi dibattiti in cui gli scienziati vanno in televisione, in radio, sui media a parlare. C'è modo in modo di raccontare le storie. Io ho scelto il peggiore. Cioè, tanto per essere chiari, ho fatto sette audizioni parlamentari e due audizioni in due consigli regionali, Puglia e Lombardia. In realtà, quello che io racconto e quello che vi racconterò tutta la giornata è l'opposto di quello che vogliono sentirsi dire l'intera classe politica di questo paese. Non è la stessa cosa, come dire, lisciare il pelo alla classe politica e mediatica di questo paese e dirgli esattamente l'opposto, anzi scontrarsi con i documenti e i servizi televisivi che vedrete nel corso della giornata. Poi vi lascerò un video dell'ultimo episodio che è avvenuto sabato scorso, una trasmissione di Rai3 in cui mi hanno intervistato, quindi c'è un pezzettino di racconto di quello che penso io sul glifosato, ma lo vedrete immerso in una puntata di dieci minuti o una cosa di questo genere. Quindi, avendo le informazioni che vi fornisco adesso, la potrete riguardare sapendo che cosa viene raccontato, vedendo cosa viene raccontato e sapendo cosa viene omesso da questa storia. E questo è un aiuto perché in qualunque luogo voi vi troviate a studiare un libro, a vedere una trasmissione, a vedere un video di YouTube, di TikTok o di quello che sia, una cosa è quello che viene rappresentato e un'altra cosa sono le informazioni che vi servono per capire cosa vogliono che voi capiate. Questa è la differenza profonda. E quindi è un esercizio complesso in cui il vero messaggio che vi sto dando è non pensate che leggere il titolo di quello di cui si parla aiuti in qualche modo a capire e a risolvere la questione. Purtroppo bisogna entrare nelle storie. Va bene. Fatta questa troppo lunga premessa per le mie capacità, vedo di condividere lo schermo e di passare alla prima presentazione. Ditemi se si vede e se è comprensibile. Mi dite cosa vedete e se si vede? Pronto? Niente? Sta partendo qualcosa. Vedo uno schermo nero. Secondo me è restato la condivisione del video. Ok. Quindi forse non si vede il mio perché c'è ancora il video in condivisione. No, l'abbiamo tolto qui. Provi a interrompere e riprendere. Ok. Ok. E provi a presentare non lo schermo ma il cos'era la finestra. Ve l'avevamo detto? Sì. Perfetto, adesso si vede. Sì. Ok. Ci siamo. Ditemi se si vede e se posso cominciare. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Grazie. Ok. Allora, giusto per farvi capire che cos'è, zebrafish non è uno scherzetto. È uno dei grandi sistemi modello per capire come funziona la biologia mondiale. E si usa quel pesciolino che vedete in alto, che in pratica in questa forma non è così facile, ma spesso è trasparente. Quindi si riescono a capire i processi, i meccanismi, lo sviluppo, insomma tantissime storie. Quello di sotto è quello di, diciamo, una versione della paura che si desidera istillare nel pubblico, ossia l'idea che organismi geneticamente modificati siano dei mostri. Proverò a smentire questa storia stamattina, cercando di non fare troppo tardi. Quindi, qual è il punto? È che sembra esistere una dicotomia tra quello che è naturale e quello che l'uomo tocca. Ogni volta che l'uomo tocca qualcosa è come se lo inquinasse. Quindi c'è un mondo naturale, apparentemente, raccontato a qualcuno che sarebbe bello, buono, sano, giusto, pulito e tutto il resto, e la natura non ha pensato altro che alimentare noi. Ecco, vi vorrei rassicurare che la natura non ha mai pensato di alimentare l'essere umano. Non ci pensa neanche minimamente. Tanto è vero che alcune delle piante naturali più famose, tipo la cicuta, direttamente possono uccidervi. Quindi evitate di pensare che la natura fa il nostro bene. La natura cerca di selezionare quelle che riescono a riprodursi meglio, gli organismi che riescono a sopravvivere meglio. Noi non mangiamo piante selvatiche, con pochissime eccezioni, le more, le faragoline di bosco e poche altre cose. Quello che noi mangiamo sono piante che si chiamano addomesticate, e sono addomesticate dall'uomo. Questa che vedete è una pianta selvatica. Da questa deriva qualcosa che assomiglia di più a qualcosa che più conoscete, e va avanti così per secoli e millenni. Sono tutte derivate l'una dall'altra, siamo noi esseri umani che selezioniamo le piante per i nostri interessi, per le nostre convenienze, per nutrire noi. È una selezione innaturale, fatta dal predatore. Noi siamo i predatori delle piante, e facciamo in modo che le piante, nel corso dei secoli, come vedete dalle date qui, piano piano siano sempre più buone e nutrienti per noi, cioè per il predatore. Una pianta selvatica cerca di essere indigesta per il predatore, in modo da non venire mangiata. Questa è una pianta naturale, e noi abbiamo selezionato questa, che è ben più commestibile, pianta naturale, e quella che noi abbiamo selezionato. Vi ricordo che le carote nascono viola, oltretutto. Noi le selezioniamo arancioni. Per i pomodori è esattamente la stessa cosa. La bacca iniziale, è quella che vedete in alto alla vostra sinistra, da cui derivano tutte le varietà che noi abbiamo tirato fuori, di tutte le altezze, grandezze e dimensioni. Anche il pomodoro nasce viola, originariamente. E vi ricordo che è una pianta recentissima per quanto riguarda l'Europa, cioè molto dopo la scoperta dell'America è arrivata. Basterebbe guardare i dipinti del Seicento e vedere come erano fatte le angurie dell'epoca, quanto poco rosso e quanti tanti semi c'erano, per capire perché noi selezioniamo per i nostri interessi, perché se no sono veramente incommestibili. La vicenda di questo ortaggio che riconoscete tutti è divertente perché quello che vedete in basso è la pianta selvatica. Quando ci arriva, ed è una pianta diciamo dell'asiatica, quando ci arriva è sferica, rotonda, però è di colore scuro, non ci piace, abbiamo paura dei colori scuri, noi cerchiamo di evitare i colori scuri. Quando però poi la tagliamo e annerisce, perché se l'avete mai tagliata annerisce, abbiamo a quel punto capiamo che questo è il frutto del diavolo. E quindi scegliamo un nome per questo ortaggio, vedete, un po' sferico, e lo chiamiamo le mele insane. Questo vi dà l'idea che noi verso il cibo abbiamo dei pregiudizi, abbiamo delle grandissime paure. Ci vorrà del tempo per poi accettarle come alimento, trovare i modi per cucinarla nelle maniere opportune, diventerà, come dire, un trionfo, una gloria della dieta mediterranea, della cucina italiana e di tutto il resto. Ma la verità è che nasce con una grande repulsione da parte del pubblico. Allora, io vi faccio una rapida storia dell'umanità, ma in pillole. Noi siamo esseri umani, cioè siamo sapiens, da almeno 400.000 anni, forse 700.000 se ci incrociamo con i Neandertal, e quindi forse la nostra origine è ancora più antica. Ma per almeno 400.000 anni non lasciamo traccia sul pianeta Terra se non qualche dipinto, qualche graffito sulle grotte delle caverne. Guardate che non sono cose banali, sono il segno di un'attività cerebrale superiore, molto raffinata. Perché queste non sono utili a mangiare, non sono utili a riprodursi, non sono, come dire, istinti primordiali. Poi negli ultimi 10.000 anni, contemporaneamente, facciamo le piramidi in Egitto, la grande muraglia cinese, e dipingiamo la Cappella Sistina. Ma noi geneticamente siamo indistinguibili da quelli che hanno calcato il pianeta Terra nascendo nelle savane africane e diffondendosi tutto il mondo, perché noi siamo un'unica tipologia. Voi sapete che le razze non esistono se non nella mente di chi le vuole imporre come tali. Noi siamo geneticamente tutti identici. Che cosa è successo negli ultimi 10.000 anni che ci ha portato da fuligine con delle mani sulle grotte delle taverne alla Cappella Sistina? Quello che è successo per la nostra fetta di mondo è che in questa mezzaluna fertile, questo arco verde che vedete, è stato messo in coltivazione il frumento, il grano. Questo è il cereale che permette lo sviluppo e la crescita della civiltà occidentale. Sarà la stessa cosa per il riso in Cina e per il mais in Centro America. Cioè, tre cereali cambiano la storia del pianeta, ci trasformano da cacciatori e raccoglitori presenti in circa 5 milioni di individui sull'intero globo terrestre in agricoltori. Quindi smettiamo di correre, smettiamo di inseguire le prede, possiamo curare i malati, possiamo avere specializzazioni. Quelle che vedete nelle zone rosse qui sono le prime città del pianeta. E' qui, in queste città, che nasce la scrittura. Di nuovo, un oggetto di capacità cerebrali molto superiori rispetto alle banalità, diciamo, della semplice vita di sopravvivenza. E' l'idea astratta di convertire parole in un segno, che è una cosa di una grandiosità eccezionale. Vi dicevo, tutto questo nasce attorno al frumento. Ve lo faccio vedere in due modi diversi. All'inizio, quello che accade è che un farro, diciamo, coltivato, si accoppia con uno selvatico e ci dà, scusatemi, il progenitore del grano duro. Questo è il progenitore al centro del grano duro, il quale si accoppia con l'erba delle capre e ci dà il progenitore del grano tenero. Cioè il grano tenero è quello per fare i dolci, la pizza, il grano duro è quello per fare la pasta. Sono due passaggi, due incroci, ma se lo vedete dal punto di vista genetico, è un vero e proprio mostro genetico. Il farro coltivato si accoppia con 50.000 geni, si accoppia con il farro selvatico e sommano tutti i geni dell'uno e tutti i geni dell'altro. 50.000 più 50.000 danno 100.000 geni per fare il progenitore del grano duro, quello per fare la pasta. È la somma di tutti i geni, di tutti i cromosomi dell'uno più l'altro. Ma non basta. Il progenitore del grano duro si accoppia con l'erba delle capre, altri 50.000 geni, e ci dà il progenitore del grano tenero. E qui siamo a 150.000 geni. Non so se vi è chiaro la situazione. Quando un maschio e una femmina si accoppiano, mettono in comune 23 cromosomi l'uno e 23 cromosomi l'altro per arrivare a riprodurre un essere umano che ha gli stessi 46 cromosomi dei genitori. Non diventa 46 più 46, cioè 92, e non va avanti così. si dimezzano prima e poi si accoppiano. Ecco, per fare il grano tenero sono stati infilati uno dentro l'altro tutti i genomi, tutti i geni, tutti i cromosomi di tre piante diverse. Quindi un vero e proprio mostro genetico. E non basta. Chi ha, e probabilmente è stata una donna, ha messo in coltivazione il frumento, fa una selezione genetica assolutamente innaturale. Perché normalmente i semi volano via, cadono, si disperdono, sono fatti apposta per allontanarsi dalla pianta madre. Anzi, diciamo, detto in senso molto più generale, vivono se se ne vanno lontano dalla pianta madre. Ecco, la libertà gli provoca maggior speranza di sopravvivenza. Noi abbiamo selezionato quello che vedete in basso a sinistra. Perché? Perché quando è maturo il frumento, se perde, se lascia liberi i suoi semi che sono nella sfiga, non si riesce a fare il raccolto. Cade per terra e lo perdiamo. Quindi abbiamo selezionato un mutante innaturale, nel senso che non potrebbe mai sopravvivere in natura se non lo accudissimo noi, un mutante che non disperde i semi quando è maturo. questo mutante ci consente di falciare il grano e di raccoglierlo, ma se questo fosse il modo di far sopravvivere il frumento nell'ambiente naturale, selvatico, tutti i semi germoglierebbero nello stesso punto, nello stesso momento, e comincerebbero a competere per luce, acqua e nutrienti. E morirebbero probabilmente tutti. Quindi vedete che quanti mostri genetici stanno alla base di quello che apparentemente è una cosa naturale. Non è per niente naturale, è selezionato dal predatore. È come se ci fosse un gatto che seleziona i topi che gli saltano in bocca. Di naturale, in tutta questa cosa, veramente non c'è nulla. Nella mezzaluna fertile, quindi diecimila anni fa, raccoglievamo grano a mezza tonnellata per ettaro e non è andata molto meglio fino alla Prima Guerra Mondiale quando ne raccoglievamo una tonnellata per ettaro. Quindi vedete che l'agricoltura non ha fatto passi da gigante per diecimila anni. Poi nell'ultimo secolo siamo passati da raccogliere una tonnellata per ettaro a quello che facciamo adesso di raccoglierne almeno sette tonnellate per ettaro. Se volete fare un parallelismo, quando eravamo un miliardo di esseri umani raccoglievamo una tonnellata per ettaro, adesso che ne siamo otto, raccogliamo più o meno a sette, otto tonnellate per ettaro. Ecco, quando vi dicono torniamo indietro, là bisogna anche scegliere quali sono i sette miliardi delle persone che non devono mangiare. Questa è una di queste immagini, oltre a Van Gogh che vedete in alto a destra, qua vedete il grano della, diciamo, fra le due guerre di un grandissimo agronomo questo che è Nazareno Strampelli, un grandissimo agronomo italiano, e qui sotto vedete una tipica pubblicità che vedete da qualche parte. Ora guardate che il grano ora arriva a malapena all'altezza della ruota della bicicletta. Guardate quanto era alto fra le due guerre mondiali. E qua non c'è nulla di naturale. c'è cultura e capacità inventiva degli agronomi. Vi dicevo che uno degli agronomi e questo è Nazareno Strampelli che abbassa, è il primo che abbassa la taglia del grano e riesce a incrociare fra loro i grani molto complicati. Ma non è lui quello che raccoglierà i maggiori frutti e i maggiori vantaggi da questa grande innovazione. Ma sarà questo signore al centro che è un americano Norman Borlaug che viene stranamente spedito dagli Stati Uniti in Messico perché il Messico è al disastro. Cioè ha una resa per ettaro vergognosa, nemmeno una tonnellata per ettaro, 750 kg per ettaro ed è la principale spesa e importazione dello Stato messicano. Vedete ancora l'altezza del grano quando lui arriva nel 43-44 arriva in Messico. Uno dei problemi che hanno i messicani è un fungo che si chiama la ruggine del grano e che fa questi attacchi sul grano e ne distrugge la produttività. È un patogeno noto ai romani quindi è sempre stato un problema per la la coltivazione del grano. Lui, Norman Borlaug quello che fa è di incrociare vari grani e di selezionarli prendendo grani da varie sorgenti in modo da mescolare quelli resistenti alla ruggine a questa patologia con altri grani abbassando la taglia aumentando la fertilizzazione facendo una serie di incroci progettati e programmati per cui la produzione del grano in Messico passa come vi dicevo dalle 750 kg per ettaro grazie ai suoi grani arriverà a 4 tonnellate per ettaro in realtà 8 se questo grano viene irrigato cioè se gli date acqua quindi vedete che cosa un aumento di 10 volte in qualche modo e questo ovviamente dal punto di vista dell'alimentazione ma anche dell'economia del paese è assolutamente straordinario Borla riesce a ottenere tutto questo in una decina d'anni in cui lavora in Messico e da lì si sposta in India si sposta in India e convince il governo indiano soprattutto un grandissimo agronomo locale a importare 200 tonnellate di semi di grano quello messicano quello che lui aveva messo appunto in Messico e Borla che è questo signore anziano a questo punto e lo prova nel 65 in India l'anno successivo in India verranno importati 18.000 tonnellate quello seguente 440.000 tonnellate di semi messicani ora tanto per contestualizzare cosa questo ha significato quando io ero sugli stessi banchi di scuola vostri quindi quando io avevo esattamente la vostra età noi facevamo degli scioperi facevamo degli scioperi vi potete immaginare nell'autunno si fanno scioperi per qualunque ragione e quegli scioperi che ricordo dell'epoca erano gli scioperi perché c'era la carestia e la fame in India quindi noi scioperavamo semplicemente non andavamo a scuola perché la gente moriva di fame in India erano 600 milioni di abitanti all'epoca e la carestia era tale per cui non avevano da mangiare quindi dovevano arrivare le derrate alimentari dall'estero adesso che c'è stata la guerra in Ucraina e che con come dire con l'invasione russa sono stati bloccati i porti e le esportazioni di grano dall'Ucraina tutto il mondo è andato in crisi per la disponibilità di grano lì si è scoperto che l'India nel frattempo è diventato il secondo produttore mondiale di grano quindi non solo è arrivato a un biliardo e mezzo di esseri umani ma è un esportatore di grano tutto questo è in grandissima parte merito di Norman Borlaug anche per il grano indiano vedete questa linea verde le aumenti e le rese sono arrivate esattamente lì dove sono arrivati in Messico in tutto il mondo e non a caso non disponendo di un premio Nobel per l'agricoltura che non è mai esistito Norman Borlaug ha avuto il premio Nobel per la pace è divertente questa cosa che la telefonata all'Accademia del Nobel arriva alla moglie a Margaret e ovviamente Norman Borlaug non ci pensa nemmeno a andare via dal campo dove stava facendo esperimenti quindi è stata la troupe televisiva che ha dovuto raggiungere nel campo dove faceva gli esperimenti nella motivazione del Nobel quindi siamo Nobel per la pace siamo nel 1970 viene spiegato che grazie ai grani prodotti diciamo seguendo le linee guida le logiche e l'insegnamento di Norman Borlaug in quel momento il 23% di tutte le calorie mondiali derivavano dai grani di Norman Borlaug riuscite a capire che il successo scientifico si è convertito in un clamoroso successo umanitario questa è la ragione per cui gli hanno dato il Nobel per la pace e lui quello che diceva era se volete avere la pace coltivate il grano perché se non date da mangiare alle persone non avrete mai la pace e ovviamente pur avendo semplicemente incrociato fra di loro dei grani lui era un grande sostenitore dell'utilizzo di piante geneticamente modificate perché sapeva che al di là di quello che lui era riuscito a fare bisognava fare di più meglio e l'unico sistema era la modifica genetica quindi quello che è il passaggio del novecento è che si passa dai contadini che riseminano tutti gli anni i semi che si sono prodotti nel loro campo si passa ai cosiddetti breeder che incrociano fra di loro grani provenienti da varie sorgenti e da varie situazioni in modo da integrare in un'unica nuova pianta le doti le forze le competenze le le selezioni naturali che sono state svolte in casomai in vari punti del pianeta e questo è un cambio in cui non è più il contadino che risemina sempre la stessa cosa ossia favorisce i predatori i parassiti perché se seminate sempre la stessa cosa mentre il vostro grano continua a essere sempre più o meno lo stesso i parassiti riescono a evolversi e piano piano a mangiare quel grano che vi facevo vedere si chiamava l'er maroco il grano messicano messo a punto da da Norman Borlaug ma e questa è una genealogia cioè da dove deriva tutto questo e l'inizio di questa genealogia in realtà è una genealogia italiana era di Nazareno Strampelli il quale aveva avuto per primo siamo subito dopo la prima guerra mondiale aveva incrociato un grano olandese con un grano del luogo dove lui lavorava e incrociava piante ossia un grano della provincia di Rieti questo diciamo era il grano che era più resistente a alcune malattie ma non contento tutto questo è stato incrociato con un grano anglosassone inglese e ancora incrociato con un grano giapponese ed è il grano giapponese quello che porta il carattere abbassamento dell'altezza della pianta a cosa serve accorciare l'altezza della pianta se voi date troppo da mangiare o anche solo un po' da mangiare a una pianta di grano la spiga si riempie si carica carica di peso i semi di quella spiga viene un colpo di vento e la spiga fa abbattere l'intera stelo e l'intera pianta e voi non fate più il raccolto se invece la taglia è più bassa se accorciate l'altezza del grano potete alimentarlo meglio potete alimentarlo di più a quel punto anche se è più pesante la spiga non abbatte la pianta e riuscite a fare una maggiore produzione e guardate i nomi che derivano da questo vedete sono nomi italiani mentane e ardito e poi da questo arriveremo piano piano a quelle varietà che vi ho fatto vedere che si diffondono in tutto il mondo detto in altri termini noi potevamo avere una grande chance quando otto anni fa abbiamo organizzato l'esposizione universale a Milano che era nutrire il pianeta energia per la vita questo è il titolo perché nel 2015 erano i 150 anni dalla pubblicazione delle leggi della genetica di Mendel erano 100 anni da quando Nazareno Strampelli aveva rilasciato quello che adesso è un grano una tipologia di grano molto alla moda un grano di quelli altissimi il grano senatore Cappelli che adesso sembra diventata la grande novità del momento era un incrocio di grani italiani e grani tunisini già allora quindi nel 1915 lui aveva incrociato grani ed era considerato come uno che aveva fatto GM perché è stato cacciato dall'associazione degli agricoltori di Rieti proprio perché aveva come dire inquinato aveva manipolato aveva aggiunto grani e sorgenti che non erano del territorio ecco ma solo perché non aveva fatto quello era riuscito a migliorare i grani adesso sembra che sia la cosa più bella del mondo ma lui fu fu espulso dall'associazione dei coltivatori di Rieti per questa ragione e poi 50 anni da quando Norman Borla che arriva in India e cambia come dire il destino alimentare del più grande paese ecco questo poteva essere un altro modo di fare pensare a Expo questo passo rapidissimo ovviamente negli anni più recenti abbiamo capito che cosa era successo per abbassare la taglia del grano che chi si volesse appassionare è una mutazione in un singolo nucleotide del DNA che converte una T in una C poi se vi piace ve la studiate in pratica si ferma la traduzione e il genere ricomincia dalla metionina successiva quindi si fa una proteina diversa più corta e adesso possiamo fare i grani di tutte le taglie che ci piacciono sappiamo fare grani dell'altezza di qualunque tipo di altezza voi direte che ci faccio con un grano così basso beh forse se state a Pantellerie e avete il vento di mare che spazza la terra forse un grano bassissimo oppure le buche dove viene coltivata la vite in posti del genere potrebbero essere utili ma insomma la cosa interessante è che un gene può essere mutagenizzato in singoli punti e in funzione di quello abbassare la taglia della pianta adesso abbiamo capito geneticamente che cosa era accaduto casualmente in quelle varietà giapponesi di grano a taglia bassa guardate che aumentare la resa per ettaro significa evitare di coltivare terreno evitare di dissodare eliminare foreste distruggere territorio fare tante cose e praticamente è quello che è successo abbiamo continuato a usare negli anni più o meno la stessa quantità di terra avremmo dovuto triplicare gli ettari messi in coltivazione e non ce ne sono in giro per il mondo se avessimo voluto come dire aumentare le produzioni vedete che le produzioni sono aumentate almeno tre volte negli ultimi cinquant'anni ma ci serviva come dire ben altro dovevamo dovevamo mettere in coltivazione molte altre cose finisce finisce la seconda guerra mondiale quindi stiamo ancora a inseguire e aspettare mutazioni che appaiano che avvantaggino i nostri sistemi ma noi abbiamo fretta abbiamo fretta di nutrire l'intero pianeta quindi la fisica la fisica nucleare che si era così sviluppata durante la seconda guerra mondiale fornisce una sorgente di mutazioni cioè permette di mutagenizzare di cambiare a casaccio in realtà il patrimonio genetico di qualunque organismo questo è il campo di raggi gamma quello di prima era giapponese con cesio insomma una sorgente di raggi gamma che produce mutazioni in qualunque organismo noi quello che abbiamo fatto è stato per anni lo facciamo tuttora di mettere vicino nei paraggi della sorgente sacchetti di semi di tutti i tipi di semi e li mutageniziamo quindi li facciamo avere delle mutazioni casuali e le mutazioni casuali alterano il patrimonio genetico poi piantiamo i semi c'è qualcuno che muore qualcuno che sopravvive vediamo se c'è qualche caratteristica migliore che appare è fatto alla cieca cioè non sappiamo dove stiamo andando e che mutazione stiamo producendo ma a partire ripeto dagli anni 50 cominciamo a cercare di accelerare la frequenza in cui appaiono piante più resistenti a qualcosa più produttive che si adattano a climi diversi che tollerano stress in questo modo abbiamo prodotto la principale tipo di grano duro di pasta di grano duro che abbiamo mangiato a partire dagli anni 80 è il grano creso derivante da quel cappelli mutagenizzato da questo signore che è Gian Tommaso Scarascia Mugnozza quindi un esperimento di mutagenesi a casaccio ha fornito la sorgente del principale frumento duro grano duro con cui abbiamo fatto la pasta a partire dagli anni 80 era un esperimento intelligentissimo per l'epoca ma insoddisfacente da un altro punto di vista allora in questo modo abbiamo prodotto e sono inventariate diciamo archiviate 3.286 varietà commerciali di piante mutagenizzate che sono coltivate in tutti i paesi del mondo c'è di tutto riso orzo grano tenero duro mais fagioli soia lino colza girasole arachide melanzane piselli ciliegie c'è di tutto ne abbiamo 3.286 ottenute in questo modo e non a caso non è che stanno in un posto qualunque sono come dire elencate e conservate presso l'IAEA cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite della FAO che si occupa dell'energia atomica quindi la ragione è proprio quella che alla base di questi esperimenti ci stanno radiazioni prodotte da elementi radioattivi dai raggi gamma e come sorgente di mutazione e quindi come dire l'elenco è conservato in questi luoghi ecco capite quanto era insoddisfacente dal punto di vista di un ricercatore che avrebbe voluto indirizzare e capire cosa stava facendo dove lo stava facendo per quale scopo per quale interesse per quale tipo di pianta quindi avremmo voluto fare una mutagenesi mirata in un punto preciso per fare qualcosa di molto specifico ecco questo era quello che la mutagenesi infatti in questo modo non ci consentiva allora cosa sappiamo e sapevamo che esistono per esempio delle mele attaccate da un patogeno che distrugge il melo e il frutto ma che esistono dei meli selvatici che caso mai fanno delle mele immangiabili però hanno portano un gene questo quadratino giallo che conferisce loro la resistenza al patogeno questo probabilmente è un fungo che ha distrutto la pianta di melo quindi che cosa si può fare cosa avrebbe fatto Borlag o Nazareno Strampelli potevano soltanto incrociare il melo selvatico con il melo commerciale quello che fa la mela buona saporita profumata croccante soltanto che se si incrociano un cromosoma deriverà da un genitore e l'altro dall'altro e alla fine si mescoleranno talmente tutti i caratteri che arriverà forse selezionandola un melo resistente perché porta il gene di resistenza proveniente dalla varietà selvatica ma immangiabile per tutte le altre caratteristiche che abbiamo selezionato nel corso dei secoli anzi forse dei millenni e che ci hanno portato alla mela commestibile che stiamo mangiando vi ricordo che le mele non nascono in Alto Adige è un frutto che deriva da alcune delle montagne più alte del mondo in Kazakistan e che ci arrivano dopo la fine dell'ultima glaciazione cioè dopo gli ultimi 12.000 anni e quelle che importiamo e poi selezioniamo in migliaia di varietà sono sempre più commestibili sono le varietà selvatiche che sono casomai resistenti a quel patoggio ecco cosa può fare la modifica genetica potrebbe prelevare solo il gene di resistenza solo il quadratino giallo e aggiungerlo nelle mele commerciali nelle mele che hanno migliaia di caratteri positivi qua ci serve solo un carattere in più un gene in più anzi probabilmente lo stesso gene che già c'è nella mela ma vagamente leggermente modificato in modo da renderla resistente al patoggio se noi prendiamo il gene di resistenza e lo spostiamo nella mela nel genoma della mela commerciale facciamo un organismo geneticamente modificato e come tale è praticamente vietato in tutta Europa fare un'operazione di questo gene perché ne abbiamo paura per ragioni che sono in prima battuta psicologiche e dopo di angosce di paura come per le melanzane io vi ricordo che tutto il DNA è identico da un virus alla balena nel senso che sono fatto da quattro mattoncini tutti uguali indistinguibili da un organismo all'altro quindi spostare un pezzo di DNA dall'uno all'altro in realtà non è nulla di così complicato e difficile gli organismi genericamente modificati che sono in circolazione derivano da due strategie diverse la prima è quella di impedire ai parassiti in realtà i fitofagi di mangiare le foglie questa sarebbe una foglia di una pianta perché gli mettiamo dentro una pre-proteina in realtà una pre-tossina che quando finisce nell'intestino degli insetti ma non nel nostro intestino diventa tossica quindi se gli insetti questo tipo di insetti mica tutti solamente una parte mangiano questo tipo di foglia poi o scappano o come dire hanno un mal di pancia oppure muorono direttamente quindi l'idea è colpire non a casaccio come fa un insetticida ma colpire specificamente le larve gli insetti che mangiano le foglie e questo significa evitare di usare gli insetticidi non vi spiego perché soltanto gli insetti ma insomma loro digeriscono basico e noi digeriamo acino questa è una delle principali ragioni l'altra grande categoria che vedremo a un certo punto più tardi nella giornata è quelli resistenti a erbicidi al glifosate che in realtà è un modo diciamo per bypassare il glifosato bloccherebbe una via biosintetica che porta a fare amminoacidi e attraverso un gene che invece è insensibile al glifosato un gene batterico riusciamo a consentire a quelle piante di essere tolleranti di resistere all'azione di un di un erbicida in questo momento il 12% di tutte le coltivazioni mondiali deriva da piante geneticamente modificate quasi l'80% della soia due terzi del cotone un quarto del mais colza la canola è l'olio di colza un olio che si usa per fare le fritture in pratica soia e colza sono resistenti all'erbicida cotone e mais in gran parte ma non solo sono piante resistenti all'aggressione dei parassiti vengono coltivate in tutto il mondo il campo medio è di circa 10 ettari quindi non è un campo irragionevole da utilizzare anche in Italia e in Europa e oramai la superficie coperta è equivale a 14 volte su tutte le piante coltivate in Italia questa è la coltivazione mondiale di piante geneticamente modificate non presentano nessun rischio per la salute umana questa è la dichiarazione del 2001 del commissario europeo alla ricerca ma poi si sono alternate decine di dichiarazioni in questo senso tanto per darvi un'idea da 27 anni stiamo mangiando piante geneticamente modificate fresche cioè crude che sono per esempio le papaya delle Hawaii che erano attaccate da un virus che le distruggeva e queste che vedete crescere a destra sono piante papaya geneticamente modificate per essere resistenti al virus e questo le consente di crescere non hanno vi dicevo fatto nessun danno sanitario con tutte le possibili organizzazioni mondiali che attestano questa storia ma il vero problema era quello che vi dicevo prima è un problema che noi abbiamo paura anche paura dell'irrazionale e il fatto di avere paura non può essere né trascurato né banalizzato per chi si ricorda Jurassic Park e si ricorda in dettaglio la storia di Jurassic Park il tirannosauro è geneticamente modificato è un diciamo un DNA di t-rex contenuto nel ventre ma zanzara ma siccome c'era un po' di rotture un po' di buchini i buchi sono stati ritattati con il DNA di un rospo asiatico ecco quindi mescolamento di genomi e il tirannosauro che ci aggredisce dal cui noi scappiamo è tecnicamente un organismo geneticamente modificato ed è anche nella versione positiva la paura si fa anche nella versione positiva perché l'uomo ragno che viene morsicato accidentalmente da un ragno geneticamente modificato in realtà come dire rivela un'altra paura sì di superpoteri ma contemporaneamente snatura rende altro dall'essenza umana anche questa versione positiva di che cosa può aver fatto un ragno geneticamente modificato quindi c'è l'angoscia di chissà che cosa ci succede a coltivare o mangiare piante geneticamente modificate in realtà dipende dalla psicologia dipende da che cosa io vi voglio far vedere da che cosa come vi voglio terrorizzare questa è la composizione chimica vera di un uovo e se io faccio fermare la vostra attenzione vi faccio concentrare sul fatto che nell'uovo c'è butano acetaldeide formaldeide acetone e soprattutto benzene io vi cerco di spaventare cerco di far concentrare la vostra attenzione sulla paura ma cosa mi farà la formaldeide l'acetone il benzene il benzene è un cancerogeno sicuro tanto per essere chiari che lo scaricano le automobili con i gasti scarichi dipende da cosa cosa è importante per me per farvi spaventare la stessa cosa succede con il kiwi con tutti i possibili coloranti che vedete qua che sono contenuti nel kiwi e queste sono le immagini di chi ci vuole spaventare con gli organismi geneticamente modificati idee affascinanti insomma pubblicitari grandiosi che inventano cose che ovviamente non esistono da nessuna parte ma che non hanno nemmeno bisogno di una scritta non dovete neanche leggere delle parole spaventano direttamente senza far nulla con associazioni ambientaliste che come dire trattano le piante geneticamente modificate come se fossero come dire un cataclisma una piaga dell'umanità e così non è tanto è vero che mentre è vietata la coltivazione di quasi tutte le piante in tutta Europa e certamente in Italia le possiamo importare tutte quante sono tutte basta che siano prodotte all'estero noi le importiamo di tutti i colori e le consumiamo sapete dove le andiamo a mettere? le andiamo a mettere per esempio nei mangimi questo è un dato del 2008 ma vale dal 1996 al 2023 questa informazione le mettiamo nei mangimi prodotti da semi geneticamente modificati e conformi ai regolamenti di grana padano di parmigiano reggiano prosciutto di parma san daniele lati yogurt formaggio salumi di tutto la mangimistica europea oltre che italiana è basata sull'importazione in gran parte di soia e poi anche di mais geneticamente modificato quindi vedete questa dicotomia tra la paura di fare qualcosa e il fatto che poi lo importiamo dall'estero e lo usiamo allegramente da un quarto di secolo ecco se voi volete ve lo faccio sentire direttamente dalle parole del presidente del consorzio di tutela di parmigiano reggiano che chiamato in caos e costretto a dire tutto questo alla fine più o meno confessa quello che è ora io mi fermerei un istante anche per capire a che punto siamo e quanto posso andare avanti anche con i video audio allora sì ci prendiamo un secondo di pausa secondo me potremmo dell'audio dobbiamo sentirne una parte solo solamente tre minuti volendo i primi tre minuti ma se no ve lo lascio ok e lo sentite voi tranquillamente c'è scritto perfetto io farei così io farei così lo lascerei poi ai ragazzi così hanno un secondo momento magari in classe di approfondimento io farei così mi dica se se si può fare facciamo così io cerco di andare alla chiusura poi casomai facciamo facciamo vedere vabbè vediamo cosa cosa preferite fare ovviamente ci avrei un altro paio di video in questa presentazione non vorrei sforare troppo ok solo per questo e ora vogliamo chiudere questa se ancora qualche slide per chiuderla la chiudiamo e facciamo vediamo se i ragazzi hanno delle domande e facciamo proprio cinque minuti di pausa così anche loro si riprendono un attimo perché a me sembra che sia stata una presentazione molto interessante ma anche impegnativa nel senso che io ho seguito mi è piaciuta moltissimo però devo devo digerire le informazioni un secondo però se lei ha ancora un paio di slide per chiudere il discorso lo chiudiamo vediamo se i ragazzi hanno due domande e poi facciamo cinque minuti di pausa va bene allora datemi tre minuti semplicemente altro luogo dove potete vedere tutto questo è una trasmissione di presa diretta della RAI dove si vede cosa sono i mangimi in giro per l'Italia la sostanza estrema è che l'Italia importa tutti i giorni 10.000 tonnellate di soia geneticamente modificata che vanno nella mangimistica in gran parte ma ovviamente non solo del cotone non vi parlo e non vi parlo di tutte queste storie che sarebbero troppo complicate casomai ve le vedete voi vi chiudo per dire che la vicenda OGM si chiude più o meno nel 2016 quando l'Unione Europea decide che si può vietare la coltivazione in Europa ma l'importazione è sempre permessa per ragioni che non hanno niente a che fare né con l'ambiente né con la salute quindi per ragioni diciamo di ordine pubblico paesaggistiche o di storie di questo genere quindi per ragioni completamente avulse da fatti come dire sanitari ma che sono semplicemente di altra natura insomma di altre paure nel 2020 a queste due signore un'americana e una francese viene dato il premio Nobel per la chimica per aver identificato il nuovo modo in cui si può fare il miglioramento genetico che si chiama genome editing con una proteina che si chiama CRISPR in pratica è come l'editing che facciamo su un computer cioè adesso possiamo correggere una singola lettera di un testo che è di quell'organismo non cambiamo organismo non prendiamo pezzi da un altro organismo e addirittura possiamo correggere un apostrofo e un accento quindi anche le modifiche che si chiamano epigenetiche e questo è quello che come dire ha cambiato i parametri di tutta questa vicenda non ve la faccio vedere perché sarebbe troppo complicato semplicemente vi dico che questo signore che avete visto come presidente del comitato tecnico scientifico per il covid nel suo ospedale perché lui è un ematologo nel suo ospedale al bambino Gesù ha usato questa tecnica per modificare geneticamente il patrimonio di un malato di talassemia e cercare di restituirgli un'emoglobina che funzionasse quindi questa tecnologia è già in clinica ve lo vedete se volete da qualche parte e tanto per chiudere con l'ultima diapositiva il panel internazionale per i cambiamenti climatici quindi quello che si occupa dell'emissione di gas serra suggerisce per il capitolo agricoltura di usare il genome editing quindi la correzione delle bozze genomica usando proprio la proteina per la quale sono state premiate Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna nel 2020 con il Nobel usare questa tecnologia per adattare le coltivazioni ai cambiamenti climatici in corso quindi siamo in una nuova era in cui la storia OGM in qualche modo è tramontata anche perché è stata sostituita da un sistema molto più rapido per arrivare a fare le stesse cose e qua chiudiamo ok allora sostanzialmente io direi se abbiamo delle domande sarebbe il caso di farle adesso anche per aprire magari un dibattito io sono il primo ad avere determinate idee ma mi piacerebbe conoscere anche le vostre una volta finite le domande vediamo quante sono vediamo se bisogna andare avanti o meno il dottor Defez avrebbe ancora una piccola parte non abbiamo molto tempo perché alle 11 diciamo meno 5 dobbiamo chiudere che i ragazzi poi devono rientrare nelle classi però ha una seconda parte che è un po' più specifica e che parla di glifosato e quindi l'applicazione dell'OGM è proprio una questione reale e quindi avrebbe ancora diciamo aprirebbe una parentesi su quel mondo lì non so chiedo a voi e ai colleghi che sono esperti se avete domande se avete delle osservazioni ora vi rivedo arrivano le domande ho una domanda riguardo agli OGM abbiamo parlato delle coltivazioni ma si può avere anche un'applicazione medica per esempio evitare di usare antibiotici e fare dei processi di ingegneria genetica per curare delle patologie o prevenire scusa mi dici il tuo nome perché Andrea Goffo Andrea allora come ti dicevo la versione la versione CRISPR quindi la versione Genome Editing è già in clinica ed è già in clinica in molti luoghi nel mondo e viene già provata però stiamo attenti a un passaggio è una modifica genetica delle cellule che producono sangue ok che producono emoglobina quello che non si può fare e probabilmente non si potrà mai fare è di fare una modifica genetica ereditaria quindi modificare geneticamente il patrimonio genetico delle cellule delle cellule embrionali delle cellule diciamo germinali perché lì entriamo in campi etici e la diciamo la dimensione è completamente diversa aggiungere qualcosa che ci permette di compensare una malattia soprattutto ripeto per il sistema sanguigno è già fatto ancora meglio il professor Finazzi in realtà vi ha detto una parte dei problemi che ci sono intercorsi oggi insieme a me ci doveva essere Michele De Luca che è il direttore di un centro di livello mondiale a Modena Università di Modena e Reggio Emilia e Michele De Luca è forse la persona al mondo più brava più esperta e più capace per la rigenerazione della pelle quello che lui fa è quello che vi avrebbe detto se non avesse problemi monumentali diciamo irresponsabilità sulla vita e carriera di alcune centinaia di persone in questo momento particolarmente complesso lui preleva cellule da un malato le modifica geneticamente in laboratorio le fa dividere ricrea la pelle cioè in realtà sono come se fossero dei fogli di pelle leva la pelle tutta la pelle al paziente e gli applica sopra pelle geneticamente modificata in cui l'errore della come dire genetico del malato viene compensato e corretto quindi vedete di nuovo un sistema in cui si riesce a intervenire si può riparare un danno tremendo perché questi pazienti praticamente devono vivere batuffoli di cotone perché qualunque cosa toccano si feriscono e si infettano e muoiono si riesce a farlo su come dire pezzi aggiunti ma non si fa sulle cellule germinali allora per gli antibiotici ci sono tanti sistemi che possiamo immaginare in realtà per combattere le infezioni anche questi da genomediti a patto che come dire siano personalizzati sul patogeno e si stanno già facendo in qualche modo vi dico in che modo in realtà voi avete visto con i vaccini vabbè forse dopo riusciamo a vederla la slide sui vaccini ma non so se è il caso forse secondo me doveva fare un altro incontro però vediamo dopo per i vaccini voi avete visto che è stato messo un RNA che serviva a bloccare il virus questa stessa operazione si funziona si fa è attiva ed è produttiva per le piante ossia invece di usare un insetticida che ammazza farfalle formiche e coccinelle possiamo spruzzare RNA identico in realtà complementare a quello di un patogeno a quello di un insetto dannoso quindi colpendo solamente andando a accoppiare quell'RNA ha un solo singolo specifico insetto ed è un insetticida come dire genetico se volete si accoppia e blocca l'attività di quell'insetto un antibiotico che cos'è in fondo è il modo di contrastare un patogeno in genere un batterio o un fungo ma in genere se usate un antibiotico è un batterio se no il fungo li produce gli antibiotici si può averlo individuale contro anche i batteri non c'è neanche bisogno di modificare il patrimonio genetico della persona ma si può cercare di avere un sistema in cui viene colpito solo il DNA del patogeno che sta arrivando evitando tutti i tipi di antibiote non fate applausi che facciamo prima dai come ti chiami Lidia io volevo chiederle cosa ne pensa Lidia si diciamo in Italia è stato molto dibattuto l'utilizzo della proteina CRISPR Cas9 perché diciamo che il sottotesto era che sarebbe stata utilizzata per interventi estetici quindi volevo chiederle cosa ne pensa di questo dibattito diciamo diciamo onestamente l'idea di usare CRISPR per questioni estetiche spero che sia veramente l'ultima delle applicazioni che venga utilizzata CRISPR corregge singoli difetti in singoli punti di ripeto malattie di situazioni estreme francamente su questioni estetiche mi sembra un modo di discutere di altro mentre ci sono questioni estremamente più rilevanti più urgenti più coinvolgenti vi faccio un esempio sulle cose che si possono fare operativamente in questo istante quel melo attaccato dal fungo è uguale a una vite attaccata dallo stesso patogeno da un pomodoro che viene colpito esattamente dallo stesso tipo di fungo noi sappiamo qual è il gene sappiamo dove dobbiamo correggerlo potremmo utilizzare CRISPR per cambiare quel gene in riso in pomodoro in vite in melo ed evitare e smettere di essere il primo paese europeo per consumo di fungicidi noi siamo il primo paese in Europa per consumo di fungicidi li potremmo risparmiare utilizzando CRISPR la questione della come dire trattamenti estetici è una questione individuale è una questione personale dove casomai una persona che abbia desideri di questo genere io non ne come dire non so quanto poi la tecnologia sia capace di intervenire sul singola persona onestamente quindi ho forti dubbi che abbia un'efficacia ma comunque è una questione individuale perché la persona si può anche andare a fare all'estero tecnicamente se esiste una cura efficace ma io penso che il problema sia un problema di comunità di nazioni di dibattiti su strategie come dire di sviluppo avere delle viti che non usano ossidi di rame che sono quelli usati per combattere i patogeni e i funghi è un problema come dire di economia nazionale stiamo parlando di miliardi di euro di fatturato per la produzione del vino e potersi qualificare come più sani meno che utilizzano meno inquinanti che intossicano di meno i terreni penso che sia una priorità rispetto a quella delle esigenze personali di qualche d'uno che siano cure che possono valere per tutti i malati un'altra cosa che siano piaceri e gusti ecco allora buongiorno volevo chiedere viste le nuove innovazioni tecnologiche e i cambiamenti climatici che stanno avvenendo ultimamente rispetto alla posizione dell'Unione Europea quali saranno i prodotti più utilizzati in futuro quelli OGM o quelli biologici Nicolò lo bianco grazie grazie per la risposta inutile non ho capito non ho capito il nome o la domanda va bene è il nome Nicolò lo bianco Nicolò neanche questa volta va bene Nicolò ecco Nicolò adesso ho sentito va bene allora l'Unione Europea tre anni fa ha indicato la sua strategia la sua strategia per per il futuro nel progetto che si chiama Farm to Fork cioè dalla fattoria alla forchetta e nella strategia Farm to Fork l'idea dell'Unione Europea è quella di convertire un quarto di tutta l'agricoltura europea a agricoltura biologica non ho il tempo di farvi vedere i dati gli articoli scientifici i documenti le pubblicazioni a fiumi che non sono su Nature o su di scienziati ma sono anche quei dati della FAO aumentare la produzione biologica si converte in un aumento delle produzioni di gas serra perché l'Unione Europea sta incoraggiando la conversione all'agricoltura biologica sostanzialmente perché vuole smettere di avere coltivazioni in Europa l'Europa deve essere un posto che fa cose molto più preziose e molto più costose noi siamo al sette e mezzo circa di campi ad agricoltura biologica perché sono sovvenzionati pesantemente passarli al 25% è un entro il 2030 è come dire un cambio di paradigma assolutamente monumentale considerate che per alcune motivazioni significa ridurre la produzione per ettaro del 40% ma quando si riduce la produzione per ettaro del 40% significa che noi dobbiamo importare quel 40% mancante dal resto del pianeta non è che smettiamo di mangiare o ci mettiamo a dieta non va così li acquisiamo da altrove e li acquisiamo da altrove pagandoli pagando gli agricoltori esteri in realtà in gran parte questi sono scambi commerciali noi gli vendiamo alta tecnologia macchinari industrializzazione e loro in cambio come dire esportano prodotti agricoli significa essere gli utilizzatori finali della deforestazione del pianeta io avevo un slide che non penso sia più utile farvi vedere in questo istante era dell'altro diciamo a parte di conferenza negli ultimi anni l'Europa ha aumentato il numero di ettari di quasi 12 milioni di ettari a bosco ci sono 12 milioni di ettari in più di foresta nell'Unione Europea rispetto a quella che c'era una quindicina d'anni fa vent'anni fa contemporaneamente nei posti dove noi andiamo a importare soia mais girasole e altri tipi di coltivazione perché non le facciamo in Europa la la deforestazione è aumentata esattamente di assisto numero di ettari quindi ci sono 12 milioni di ettari in meno in Brasile in Argentina e in Sud America in generale ma anche in Africa e 12 milioni di ettari di bosco in più in Europa allora il punto di questa storia è che bisognerebbe fare i conti veri bisognerebbe includere tutto nel parametro per esempio come fertilizziamo un campo di agricoltura biologica se vi ponete concretamente questa cosa e la FAO ha fatto tutto questo conto vedreste che fertilizzare un campo con farine animali che è il principale fertilizzante di agricoltura biologica i resti di macellazione che vengono cotti portati a alta temperatura poi triturati inceneriti e sparsi come farina quelle in effetti sono proteine quindi nelle proteine ci sono gli amminoacidi gli amminoacidi sono fatti dalla parte amminica e l'ammino vuol dire azoto quello che manca alle piante per prima cosa è l'azoto poi fosforo e potassio ma la prima cosa che gli manca è l'azoto e le proteine anche se da scarti animali sono le stesse in qualunque organismo di vento l'alternativa alle farine animali che in Italia fanno almeno il 50% dei fertilizzanti dell'agricoltura biologica sono i letami ma per fare i letami avete bisogno degli allevamenti intensivi alimentati con soia geneticamente modificata e i letami di loro emettono gas serra i batteri del rumine emettono gas serra emettono metano vedete se per una volta ci si fermasse a fare i conti veri di quanto costa in termini di emissione di gas serra poi ognuno può avere le sue piaceri vantaggi interessi desideri gusti quella è un'altra storia ma se usassimo solo il parametro emissione di gas serra è molto discutibile se la strategia di fare tutte coltivazioni biologiche in Europa è una strategia vincente forse lo è dal punto di vista commerciale vi ripeto per gli scambi internazionali di prodotti dal punto di vista della produzione è certamente una perdita netta di produzione un aumento netto di importazione e nell'importazione voi dovete considerare la nave che vi arriva dall'Argentina cioè da 6, 7, 8 fusi orari di distanza che deve attraversare l'Atlantico chi paga in termini di emissioni di gas serra quella nave cioè se incolpate l'Argentina è bello è comodo ma loro coltivano per portare la soia da noi il Brasile coltiva per portarla da noi allora chi è che si deve far carico di quelle emissioni di gas serra vedete quanto è complessa questa questa vicenda sempre dati fao e con questo chiudo la risposta se vi chiarisce poi quali sono i dibattiti a livello internazionale se voi vi fate la domanda chi emette di più gas serra ovviamente in testa la classifica in questo istante troverete Cina Stati Uniti Unione Europea cose di questo genere poi potreste fare un'altra classifica visto che la CO2 resta in atmosfera due secoli chi è che negli ultimo secolo ha emesso più CO2 e lì improvvisamente vedreste scomparire la Cina come grande produttore di CO2 e resterebbero Europa Stati Uniti in testa alla classifica che come dire si sono già sviluppati in qualche modo ma se voi voleste fare un altro tipo di classifica che forse a occhio sembrerebbe la più logica non possiamo paragonare le emissioni di un miliardo e quattrocento milioni di cinesi con quelle di trecento milioni di statunitensi facciamo un'altra classifica la classifica delle emissioni di gas serra del 2022 per singolo abitante chi è che come singolo abitante sul pianeta emette più gas serra non la Cina non gli Stati Uniti non l'Europa non la Russia nessuno degli stati che potreste immaginarle lo sapete in testa alla classifica per singolo abitante chi sta in testa nuova guinea Belize paesi africani poverissimi tutti questi e perché sono in testa alla classifica pro capita perché stanno disboscando in realtà la classifica è fatta valutando le emissioni di gas serra e più tagliate alberi più aumentate la vostra impronta ambientale vedete quanto è difficile poi sedersi a un tavolo negoziale a livello planetario e decidere qual è la classifica da utilizzare chi deve ridurre di quanto deve ridurre e chi è il più colpevole e il meno colpevole come attribuire le colpe come attribuire i meriti è una partita estremamente difficile in cui come dire l'ultima cosa che bisognerebbe utilizzare sono gli slogan OGM agricoltura biologica altre storie non deve andare così bisognerebbe scendere nel tecnico e dire ok per fare questo quanto mi costa per diserbare un campo d'agricoltura biologica dove non potete usare glifosato quello di cui non parlerò oggi mi sembra chiaro come lo diserbate a mano ok quanto costano le persone che dovete pagare per diserbare a mano quanto tempo devono passare nessuno ce la farà diserbare a mano per agricoltura biologica potete usare il piro di serbo sapete cos'è il piro di serbo significa che passa un drago una macchina che è un drago che sputa fuoco e che brucia le erbacce sputando gas incendiato quanto emette di gas serra una cosa di questo genere un'aratura che potrebbe essere un altro sistema se avete un campo con degli alberi passate in mezzo con un arato quella aratura è il principale sistema di emettere gas serra perché liberate la CO2 che è contenuta sotto terra quindi l'aratura è l'ultima delle cose che bisognerebbe fare glifosato in realtà una delle cose principali per cui è stato usato viene usato e verrà usato ancora in futuro è perché permette di evitare l'aratura dei suoni siccome usate quell'erbicida non ricrescono le erbacce e voi potete piantare in un campo ovviamente dovreste è più facile piantare piante geneticamente modificate resistenti al glifosato perché lo potete usare anche dopo che la pianta è emersa cioè dopo che ha tirato fuori le foglie ma voi potete seminare in un campo dove avete passato al glifosato non crescono le erbacce seminate la vostra pianta e cresce la vostra pianta perché ha avuto un vantaggio selettivo rispetto alle piante infestanti che c'era vedete quanto è difficile avere come dire una risposta semplice sintetica bianco e nero il punto che io vi cerco di fare è proprio questo entriamo nel merito scomponiamo il tema in tutte le sue componenti e cerchiamo di arrivare dagli slogan che sono molto facili da raccontare a poi come veramente pesa ogni singola componente se io produco 40% in meno che faccio metto tutti a dieta o mi compro dall'estero qualche cosa nome ok Cecilia allora i sostenitori dell'utilizzo degli OGM portano tra gli altri argomenti a sostegno della loro tesi i rigidi protocolli cioè i rigidi protocolli di controllo a cui questi prodotti vengono sottoposti però dato l'alto costo che l'applicazione di questi controlli deve avere e l'organizzazione sanitaria statale che ci deve essere dietro come ci si può assicurare che questi siano svolti con costanza e soprattutto in tutto il globo cioè soprattutto in quelle parti del mondo meno sviluppate e meno forti economicamente allora Cecilia va benissimo questa domanda però la questione mi sembra che sia questa ci sono dei gruppi gruppi di ricerca laboratori industrie che producono le piante geneticamente modificate e fanno i simi e normalmente queste stanno nei paesi sviluppati questa sarebbe in teoria la grande dote che potrebbe avere questa tecnologia ossia soia mais ormai sono 30 anni che sono in circolazione noi li stiamo importando li usiamo per qualunque funzione e tra poco vi faccio vedere dove stanno gli OGM addosso a voi l'ideale per un paese in via di sviluppo è quello che dovrebbe fare uno come me cioè la ricerca scientifica pubblica mettere un'azienda deve fare soldi io devo produrre pubblicazioni devo produrre conoscenza quindi l'ideale sarebbe finanziare progetti in cui scienziati dei paesi del sud del mondo vengono a lavorare nei laboratori dei paesi del nord del mondo detto sinteticamente sulle loro piante sui loro interessi commerciali sui loro interessi agronomici soprattutto sto parlando di miglio cassava sorgo vigna che non è vite vigna è un fagiolo dall'occhio insomma sulle grandi cultivazioni che non hanno interessi commerciali che non portano reddito ma che servono a quei paesi potrebbero migliorarle nei paesi sviluppati e tornarsene con la pianta e col brevetto casomai su quella pianta nei loro posti dove potrebbero evitare di utilizzare insetticidi oppure avere raccolti praticamente inesistenti quando arriva il parassita in questione ecco io quello che dico è la parte sanitaria la dovrebbero fare i paesi sviluppati questa sarebbe un vero sistema di sostegno ai paesi in via di sviluppo utilizzando la ricerca scientifica pubblica che non ha interessi commerciali su queste storie io quando brevetto brevetto a nome dello stato italiano non brevetto a nome roberto de fez brevetto a nome dello stato italiano che può decidere di cedere casomai il brevetto gratis a un paese in via di sviluppo e a prezzi elevatissimi a una multinazionale che lo vuole casomai commercializzare per farci reddito ma non non è una questione che riguarda me personalmente riguarda il decisore come dire politico amministrativo che dovrà gestire il brevetto per cui è importante brevettarlo perché se no è libero tutti lo possono utilizzare quindi gli aspetti sanitari vanno valutati dove può essere valutato tutto questo e non è detto che si liberalizza l'utilizzo e l'applicazione ovunque anche perché è costoso come dire fare gli esperimenti vedere la validità arrivare a un prodotto che funzioni che sia commercialmente valido se non c'è una garanzia sanitaria sufficiente quello che che è successo in questi 20 qua sono 30 anni l'anno prossimo da 30 anni fa era apparsi il primo pomodoro modificato negli scaffali di supermercato in questi 30 anni ci sono stati zero ospedalizzazioni a causa del consumo di una qualunque tipo di pianta geneticamente modificata non c'è stata una sola persona ospedalizzata derivante dal consumo di una qualunque pianta geneticamente modificata al mondo ci sono stati morti per consumo di cibi biologici inquinati contaminati da qualche cosa allora vedete la distanza tra il percepito e il reale non 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 diciamo i protocolli sanitari che sono stati messi in campo sono è vero spaventosamente costosi le piante modificate sono trattate come se fossero dei farmaci quindi garantite e valutate come un farmaco a fronte di nessun rischio in corso ci sono stati persone intossicate anche casi di morte per piante incrociate tra di loro non geneticamente modificate perché nell'incrocio esiste la possibilità che emerga qualche cosa di infausto i protocolli sanitari che sovraintendono al rilascio di piante geneticamente modificate sono talmente ossessivi che una cosa del genere l'avrebbero colpita l'avrebbero beccata l'avrebbero intercettata non è stato così cioè per le piante modificate zero problemi non così per le altre ma perché perché se voi fate ecco se andate dal fruttivendolo adesso trovate un cavolfiore bianco uno verde uno viola quelle sono mutazioni genetiche quello che viene chiamato biodiversità sono mutazioni genetiche ereditarie ma non devono passare il filtro di una verifica sanitaria se vi piace è buono fine dell'operazione si mette in commercio vedete la distanza per una pianta modificata dal momento in cui producete la pianta passeranno 8-10 anni prima che la possiate commercializzare perché devono passare test su cavia test in campo validazioni di tutti i generi ecco tutta la nostra concentrazione è stata sulla paura del danno sanitario e l'effetto finale di tutto questo è stato che tutte le università che avevano i brevetti sulle piante modificate hanno dovuto regalarli a zero interessi alle aziende multinazionali le uniche che potevano sostenere i costi della validazione sanitaria di tutte queste piante quindi alla fine è stato un autogol per diciamo delle associazioni ambientaliste che hanno chiesto sempre più controlli e hanno colpito alla fine i centri di ricerca di tutto il mondo i brevetti sono finiti in mani di multinazionali perché c'erano controlli tanto costosi sanitari allora se questa cosa la si può come dire concepire come un rischio percepito alla fine del millennio scorso quando sono apparsi i primi oggetti ma adesso siamo a 30 anni noi non possiamo avere sempre la stessa angoscia facendo finta di non avere 30 anni di esperienza non possiamo ridiscutere tutte le volte la stessa storia e abbiamo i dati abbiamo le evidenze abbiamo il fatto che praticamente se voi entrate nel reparto frigorifero nel reparto refrigerato di un supermercato potreste metterci la scritta di qui in poi tutto è stato alimentato con un GM da come cominciate un reparto refrigerato vi dico carni salumi formaggi di tutto e praticamente tutto elevato animali allevati e nutriti con piante geneticamente modificate rigorosamente non fatte in Europa una vera follia ecco il bello sarebbe di smettere di mettere sotto la lente di ingrandimento un tipo di agricoltura come se fosse malata e evitare di mettere sotto la stessa lente di ingrandimento un altro tipo di agricoltura che non ha nessuna ragione di essere considerata immune da rischi e da pericoli quello che dovrebbe essere paragonato è stessi sistemi di controllo per tutti i tipi di alimenti perché non è vero che le piante come dire non OGM siano sicure per la salute umana ci sono dati pubblicazioni evidenze che non è stato così nella storia ma alcune piante non vengono proprio analizzate altre come dire vengono segregate e alla fine che cosa viene fatto viene deciso che non possono essere coltivate in Europa quindi va bene coltivarle nel resto del mondo in genere nel sud del mondo e importate in Europa allora io dico se non li volete gli OGM vietate le importazioni se avete deciso che sono pericolosi smettete le importazioni praticamente significa che non vedreste più un prodotto da un qualunque tipo di animale in Europa e di conseguenza non solo non vedreste latte yogurt formaggi salumi e carni metteresti in crisi l'agricoltura biologica perché non avrebbe i fertilizzanti farine animali e le tappe pensate a quanto è folle tutta questa storia in cui tutto è legato ma facciamo finta che ci siano i buoni e i cattivi bene allora grazie ovviamente quando un argomento si fa interessante verrebbe da parlarne per ore noi abbiamo dei limiti di tempo io la ringrazio io la ringrazio ovviamente la invito nuovamente se può nei prossimi anni insieme al professor De Luca sperando che la sua situazione migliori la invito quindi rinnovo l'invito per partecipare magari in presenza con i nostri ragazzi e magari riusciremo a concludere quello che avevamo preparato anzi quello che lei aveva preparato per oggi quindi la ringrazio se ha voglia di stare proprio solo due minuti ancora collegato io saluto poi i ragazzi così faccio due chiacchiere con lei perché io tempo ne ho e salutiamo i ragazzi qui presenti i ragazzi nelle classi e buona continuazione grazie grazie mille grazie ragazzi arrivederci grazie 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 grazie